Buonasera a tutti, ben ritrovati alla seconda edizione di Calabria News 24 in forma, i titoli del nostro telegiornale. Operazione Crisalide, custodia cautelare per i presunti affiliati della Cosca Cerra, Torcasio, Gualtieri. Sequestrate 780 piante di canapendiana nel Cosentino, tratte in arresto due persone. Mario Riverio ha firmato il decreto per la convocazione delle elezioni primarie per il prossimo 20 ottobre. Successo a Maida per il premio nazionale Astrea. I carabinieri di Catanzaro e la Mezzaterme hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 28 persone ritenute affiliate e contigue alla Cosca Cerra, Torcasio, Gualtieri. Sentiamo. Vasta operazione antindrangheta nella Piana Lamettina con il coinvolgimento della Cosca Cerra, Torcasio, Gualtieri. I carabinieri della Mezzaterme e Catanzaro hanno infatti eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 28 persone ritenute affiliate contigue al clan dindrangheta operante proprio nella Piana. A richiedere i provvedimenti è stata la Procura della Repubblica di Catanzaro, diretta da Nicola Gratteri. Secondo quanto avrebbero accertato gli inquirenti, il gruppo criminale sarebbe responsabile del traffico di sostanze stupefacenti, ma anche di un'intensa attività estorsiva nei confronti di commercianti e imprenditori della Metini, sfociata in alcuni casi in episodi di violenza. L'operazione è stata denominata Crisalide 3. Ricordiamo che nel maggio del 2017 era stata condotta l'operazione Crisalide che aveva colpito sempre la Cosca Cerra, Torcasio, Gualtieri. Successivamente vennero indagati anche alcuni consiglieri comunali, poi assolti e si arrivò comunque allo scioglimento del Consiglio Comunale della Mezzia Terme. Ancora cronaca, una coltivazione di 780 piante di marijuana è stata individuata a Cetraro, dei carabinieri che hanno arrestato due persone del posto. L'operazione è stata condotta dai carabinieri della Compagnia di Paola. Tra Cetraro e Guardia Piemontese, in provincia di Cosenza, sulla costa tierrenica, i carabinieri hanno scoperto una piantagione di canapa indiana ed arrestato due persone con l'accusa di produzione di sostanze stupefacenti. L'operazione odierna rappresenta un altro importante risultato del Comando Provinciale di Cosenza e in particolare del lavoro della Compagnia di Paola che è riuscita a individuare una estesa piantagione di canapa indiana in territorio molto difficile per le sue caratteristiche morfologiche e è riuscita a arrestare due soggetti che appunto si dedicavano alla coltivazione di questo stupefacente. L'attività, come dicevo prima, è stata coordinata e ringraziamo di questo da parte nostra, da parte del Procuratore della Repubblica di Paola, il Dottor Pierpaolo Bruni e dalla Dottoressa Cerchiara che ci hanno seguito passo passo nella fase precedente all'attività esecutiva e che poi è stata posta in essere oltre che dai militari della Compagnia di Paola e precisamente la stazione di Guardia Piemontese e dei colleghi della stazione forestale di Cetraro e con il brillante e fondamentale supporto del gruppo all'iportato Cacciatori di Calabria che anche in questa circostanza hanno consentito di arrivare a questo importante obiettivo che non era di facile acquisizione, atteso le caratteristiche del terreno e atteso la difficoltà di individuare i vari appezzamenti di canapa indiana che poi sono stati sequestrati. Parliamo di oltre 790 piante per un valore complessivo una volta messe sul mercato di oltre 300 mila euro. Nel corso delle indagini è stato accertato inoltre che i due non hanno alcun collegamento con la criminalità organizzata. Si tratta di due disoccupati che appunto probabilmente operavano per diciamo autonomamente o comunque sono ancora in corso delle ulteriori indagini per stabilire eventuali collegamenti che non sono stati accertati allo Stato. Passiamo alla politica. Il presidente della regione Calabria Mario Oliverio ha firmato il decreto per la convocazione delle elezioni primarie per il prossimo 20 ottobre, dunque per il rinnovo del Consiglio regionale non si andrà al voto prima di dicembre. Si avvicinano le elezioni regionali per la Calabria. Non si conosce ancora la data in cui i calabresi saranno chiamati alle urne ma è stata fissata la data delle cosiddette primarie istituzionali. Il presidente della regione Calabria Mario Oliverio ha infatti firmato il decreto per la convocazione delle elezioni primarie per il prossimo 20 ottobre. Ricordiamo che alle primarie possono accedere partiti di qualsiasi schieramento che dovranno presentare le liste entro 15 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC. In occasione della precedente tornata elettorale nessun partito ha fatto ricorso alle primarie. Ricordiamo inoltre che al momento sia in casa centrosinistra che in ambito centrodestra non esiste attualmente un accordo per la presentazione di un unico candidato e l'indizione delle primarie certamente animerà ora il dibattito politico. Ciò comporta inoltre che non si andrà al voto prima e dicembre. Le primarie infatti si devono svolgere in data non successiva alla seconda domenica antecedenti al termine per la presentazione delle liste. Dunque potrebbe essere un Natale decisamente caldo per la politica calabrese. E nella cittadella regionale si è tenuto un incontro per discutere dei dipendenti del comparto sanitario in attesa di un contratto a tempo indeterminato e dei licenziamenti dell'ospedale Pugliese Ciaccio. Si è tenuta la cittadella regionale a Catanzaro una riunione sul personale a tempo determinato della sanità calabrese e in particolare sulla situazione di emergenza che si è determinata all'ospedale Pugliese Ciaccio a seguito dei licenziamenti di personale. All'incontro convocato dal presidente della giunta Mario Oliverio hanno preso parte il delegato alle politiche sanitarie Franco Pacenza, il dirigente generale del dipartimento Salute Antonio Belcastro, il sindaco di Catanzaro Sergio Abramo e i segretari generali del sindacato regionale della sanità. Già nelle settimane scorse il presidente Oliverio aveva formalmente scritto al commissario Cotticelli chiedendo di una iniziativa a difese, a sostegno diciamo al fine di tolare i servizi nella sanità calabrese. Poi ci sono state anche una serie di interlocuzioni formali ma sta di fatto che fino ad oggi non si è messo in moto nessuna iniziativa. Oggi la presidenza della regione ha costruito un tavolo con le organizzazioni sindacali regionali a cui ha chiesto di partecipare ed è stato ben accetto il sindaco della città di Catanzaro, onorevole Abramo, proprio a testimonianza dell'epicentro delle questioni che riguardano l'ospedale pugliese di Catanzaro. Non c'è dubbio che c'è bisogno di un intervento diciamo su più terreni, c'è bisogno sicuramente di un'interlocuzione in tempi brevissimi col Ministero della Salute regionale, ma c'è bisogno anche di una disponibilità a fare in modo che non ci sia, per come è certificato purtroppo dai capi di partimento, nello specifico dell'ospedale pugliese Ciaccio che ci hanno fornito qualche giorno, nella mattinata di ieri a dire il vero, che vedrebbero una ricaduta drammatica sull'insieme dei servizi, dal pronto soccorso alla chirurgia, alla medicina, alla ginecologia, ma l'insieme dei servizi verrebbero ridotti, ci sarebbe una riduzione di posti letto, ci sarebbe un allungamento delle liste d'attesa e quindi conseguentemente anche un'ulteriore fuga dei pazienti dalla nostra regione. Alla termine dell'incontro le parti hanno concordato di adottare un'azione comune riguardo alla grave emergenza generata dai licenziamenti in atto nelle aziende sanitarie calabresi. Le organizzazioni sindacali hanno condiviso l'iniziativa della regione e si sono già attivate con le rispettive strutture nazionali per un incontro unitario in sede di Ministero che affronti le emergenze sanitarie calabrese. Intanto dobbiamo chiedere questo incontro al Ministro immediatamente perché non possiamo più aspettare, perché ci sono le gradatorie degli idoni, ci sono i precari che sono stati mandati a casa e rischiamo in questi giorni ai 18 precari di aggiungere altri 40-50 e lasciare sprovvisti i reparti con il personale sanitario. E quindi molto probabilmente oggi pomeriggio mi metterò a lavorare per vedere se c'è anche la possibilità di fare un'ordinanza sindacale. Restiamo in tema. Sanità calabrese è partita la raccolta firme a Crotone per la realizzazione del nuovo pronto soccorso. Basta una firma per il nuovo pronto soccorso. È iniziata questa raccolta firme? Sì, è iniziata. È un po' in ritardo perché è stata questa crisi di governo, non avevamo più interlocutori di fatto. Ora iniziata abbiamo già scritto al Commissario della Sanità regionale, il generale Cotticelli, e al suo suo ministro manderemo una nota per sbloccare questa situazione che ormai è incancrenita di questo progetto per il rifacimento del pronto soccorso. Perché è la firma quella che manca? È la firma perché soldi ci sono, hanno creato un po' di confusione, soldi ci sono e manca una firma per dire all'azienda procedi a costruire. Tutto qua. Si stanno avvicinando i cittadini? Sì, c'è molta voglia, anzi ci incitano ad andare avanti anche su altre problematiche, ma noi per adesso affrontiamo questo che per noi è la cosa più importante. È importante sicuramente e dobbiamo anche aggiungere che c'è necessità per la struttura ospedaliera di avere un pronto soccorso più adeguato per evitare ai cittadini di ritrovarsi senza il diritto alla salute? Sì, noi stiamo vivendo purtroppo una stagione molto nera come provincia di Crotone, ci manca tutto, adesso da molto tempo ormai questo pronto soccorso non è adeguato né alla popolazione né alle esigenze e ai bisogni dei cittadini e né agli operatori che soffrono questo aspetto strutturale che è angusto nei confronti loro e non gli permette neanche un movimento tranquillo nell'emergenza urgenza. Non è una cosa da accettare così, bisogna reagire e far capire a chi ci governa sia a livello nazionale che regionale che la città di Crotone, la provincia di Crotone non può stare più in queste condizioni, anche senza un pronto soccorso. Ho visto che ci sono i giovani a supporto di questa raccolta firme. Sì, i giovani si sono, anzi mi hanno molto meravigliato, ma i giovani si stanno proponendo in modo molto forte perché effettivamente vivono anche loro questo disservizio che ormai si perpetua nel tempo. Quante firme dovete raccogliere? Noi più ne possiamo raccogliere, più ne raccogliamo. Raccogliamo le firme fino al 30 settembre, le manderemo e poi procederemo anche ad altre iniziative, ma spero da quello che si dice che si stanno già muovendo. E da Crotone a Maida nel Catanzarese dove si è svolto il premio nazionale Astrea. Stiamo facendo cose importanti, grazie anche al vostro aiuto. Stiamo curando questo territorio, ci sono tanti imprenditori che stanno denunciando, anche tanti indranghetisti. Continuate a denunciare, abbiate fiducia in noi. Sono state le parole del giudice Nicola Gratteri, procuratore della Repubblica di Catanzaro che ha ricevuto il premio nazionale Astrea. Il magistrato è stato premiato dall'ex parlamentare Angela Napoli. Il premio nazionale Astrea è stato ideato e organizzato dalla Presidente Piera Dastoli e dal direttore artistico Massimo Mercuri. La manifestazione ha avuto il riconoscimento del Ministero di Grazie e Giustizia con i patrocini di Regione Calabria, Consiglio regionale della Calabria, provincia di Catanzaro, Camera di Commercio di Catanzaro e Comune di Maida. Ad aprire la cerimonia di consegna dei premi, il saluto del primo cittadino maidese Salvatore Paone. Nel corso della partecipata e ben riuscita manifestazione sono stati assegnati anche degli importanti riconoscimenti alla memoria a partire da quello in ricordo del giudice Francesco Ferlaino, avvocato generale dello Stato, assassinato alla Messia Terme nel 1975. Un delitto efferato che attende ancora giustizia e di cui ha parlato lo stesso figlio del magistrato, Giuseppe Ferlaino, premiato da Francesca Garofalo, giudice della Corte d'Appello di Catanzaro. Premio alla memoria anche per il generale Carlo Alberto dalla Chiesa, assassinato a Palermo il 3 settembre 1982 insieme alla moglie Emanuela Setti Carraro. A ricordare il sacrificio del padre che ha speso tutta la sua vita per servire lo Stato, la figlia Simona dalla Chiesa, premiata dalla giornalista Maria Scaramuzzino. Il premio a strea è stato assegnato anche alla memoria di Lea Garofalo, testimone di giustizia che si oppose al potere delle Endrine per salvare la vita della figlia Denise. Il riconoscimento è andata alla sorella di Lea, Marisa Garofalo, premiata dalla giornalista Nadia Donato. Molto toccante la testimonianza di Nino De Masi, imprenditore calabrese e da sempre vessato dal malaffare. Un uomo coraggioso che vive sotto scorta da anni insieme alla sua famiglia. De Masi è stato premiato da Arturo Bova, presidente della commissione regionale antindrangheta. A ricevere il premio a strea anche il giornalista RAI Michele Cucuzza, premiato dalla presidente della Camera di Commercio di Catanzaro Daniele Rossi. Tra gli ospiti premiati anche Gigi Miseferi, che ha ricordato Giacomo Battaglia, amico e collega prematuramente scomparso. A premiarlo l'artista Davide Pironaci. Il giornalista del Quotidiano del Sud, Pasqualino Rettura, ha consegnato il premio alla squadra della Tonno Callipo Volley, alla presenza del mitico presidente del team, Pippo Callipo. Il critico letterario Pasquale Allegro ha premiato lo scrittore Domenico Dara, che è uno degli autori più letti e apprezzati della letteratura italiana contemporanea. Premio a strea anche al conduttore televisivo Claudio Lippi. Premio al calabrese Angelo Mercuri, sette volte campione italiano di automobilismo categoria bicilindriche. Piera Dastoli ha assegnato il riconoscimento all'artista lamettina Eva Romano, che alla Mezzia ha avviato una struttura sportiva per l'inclusione degli atleti disabili. Premio a strea anche al network internazionale italiani.it, che costituisce la rete degli italiani nel mondo. La responsabile lamettina dell'Università Telematica Pegaso, Caterina Carbone, ha consegnato il premio al direttore responsabile Maria Scaramozzino e alle collaboratrici Katia Stranges e Serena Villella. E anche per oggi è tutto, io vi aspetto nelle prossime edizioni di Calabria News 24 in forma e come di consueto vi ricordo di consultare il nostro sito www.calabrianews24.com Grazie per essere stati con noi. Grazie a tutti.